Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Clash Quest Arrivami dei like, condividete il video, iscrivetevi al canale se no E lascia l'hashtag ClashQuest qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino E andiamo avanti con questa nuova puntata ragazzi Mi avete dato tanti consigli, ho letto anche un consiglio molto interessante Che sicuramente metterò in atto dopo questo video In pratica dovrei fare delle partite anche nelle mappe vecchie Quando non vado avanti con il gioco così intanto posso potenziarmi effettivamente le carte Molto interessante, sinceramente lo terrò appunto a noi Ma andiamo avanti, vediamo un po' che abbiamo Roba free, grazie, un elisir Monetine per noi gold, grazie, molto gentili Abbiamo anche un token quest messo da parte Quindi abbiamo 12 energie, ok ci piace Tu hai 7 token che puoi utilizzare per ricaricare le energie, perfetto Allora non penso, ho roba potenziabile ma non la posso potenziare perché costano troppo Per adesso, ma andiamo avanti Allora immediatamente proseguiamo con le missioni Allora andiamo di qua Qui avevamo quasi completato tutto e dobbiamo fare solo l'ultima Andiamo a vedere se ci riusciamo subito Ok si prosegue Allora vediamo un po' che riusciamo a combinare Qua, qua è un problema Grosso, grosso Però mi convierrebbe sfruttarlo in maniera diversa E la combo per due di questi sarebbe comoda Però eliminerebbe solo uno Questo eliminerebbe uno e massaccherebbe quasi l'altro E questo farebbe la stessa cosa Quindi andiamo dei maghi Ok E a sto punto Possiamo anche andare di loro Anche se sinceramente mi piacerebbe Una bella palletta di fuoco qua Che faccio un po' più piazza pulita Perché quello può essere fastidioso là dietro Cioè facciamo così Ok E adesso proviamo ad andare di loro Beh una bella piazza pulita Però utilizzano forse troppe unità Vai così Ci piace Adesso abbiamo una linea di arcieri E una linea di maghi La linea di maghi di qua Mi è più comoda Perché fa un po' di pulizia La linea di arcieri Prende solo qua davanti Quindi io farei così Vediamo un po' se ci riusciamo stavolta Porta a casa qualcosa Arcieri di cattiveria E vediamo che Se riusciamo Sembra di sì Dai Basta l'ultimo colpetto Ce l'abbiamo fatta Ok Perfetto Si prosegue Così abbiamo preso tutte e due le cassette E ci siamo anche un po' potenziati Allora Cassetta qui in su Che ci da bella rubina Ci piace Perfetto E andiamo immediatamente a vedere Che ci abbiamo qui Abbiamo free Un edisir Ok Ci piace E possiamo andare a vedere potenziamenti Non ancora Perché giustamente L'abbiamo già utilizzato Per potenziare La fireball Allora Diamo un po' Proseguiamo da questo lato A sto punto Iniziamo Cannonball Vai Buttiamo giù subito Le torre del mago Che può essere fastidiosa Ecco qua Qua i cavalieri Logistici Se io facessi così Aprirei la porta A loro Ok stiamo Ok stiamo all'ultimo stage Ce la potremmo fare Ce la potremmo fare Sinceramente Sti arcieri qua Sono veramente Fantastici Abbiamo già Abbiamo già quasi fatto Ci piace Allora Vai col cavaliere Che pulisce lì E vai con loro Ciao Ok Sto stage L'abbiamo fatto Abbastanza tranquillamente Allora Allora Vediamo un po' Se riusciamo a portarcela a casa Una Due E tre Questa c'ha delle balestre qua davanti Sapete Vi dico Invece le fa Lo scemo Cerchiamo di eliminare subito Sta roba qua Perché le balestre Fanno un sacco di danni E sono problematiche Queste non le eliminiamo Questi non bastano Questi non le eliminano tutte addirittura Fantastico Ok Noi stiamo proprio Alla grande Vediamo un po' Facendo così L'abbiamo abbassati un po' Combo per tre Questo non prende Quello a destra Ok Almeno Gli abbassiamo un po' Di danni Sto cercando di non sprecare cose Sinceramente Però non sono molto bravo Si vede Allora Qua abbiamo una valanga Di cavalieri Ma proprio una valanga Che però Questi vanno a sbattere Contro un muro E non fanno niente Quindi Ci converrebbe Puntare A levare qualcosa subito O fare spostamenti In questa maniera In questa maniera veramente Non gli rompo niente Così non gli abbasso nulla Se gli levassi i muri però Con maghi Vediamo un po' A sto punto I cavalieri Avebbero aria pulita Guarda che pulizia Ne va sprecato qualcuno Al massimo io potrei fare Una bella cosa Un cavaliere potrei Non sprecarmelo Non mi conviene Sprecare una swap Così però Ok Direi che ci siamo Levando questi due Soltanto Dovremmo Levar quella balestra E forse possiamo Ave pure abbastanza Unità per vincere Allora queste Vanno a colpi qua E noi non ci interessa Noi ci piacerebbe Fare una bella pulizia Di quelle grosse Però Questo romperebbe Uno solo Non ci conviene Stiamo un po' Come al solito Impicciati eh Eh questo romperebbe Tutto il muro Però alla fine Non ci troveremo In una situazione Tranquilla Me la rischio Dai Vediamo un po' Che succede Allora qua davanti Abbiamo pulito Questo avrebbe ucciso Lì ne avrebbe uccisi Due soltanto Eeeh Non sta andando Benissimo Neanche questa Però abbiamo Più grossi Quindi potremmo pure Avere Un'opportunità Migliore Sinceramente E c'ho anche Uno swap Da fare Allora facendo così Ne elimino due Anzi uno solo Così ne elimino Uno solo Così elimino lui Tanto questo Non viene eliminato Quindi possiamo Anche fa Sto gioco Perfetto Ok Se vado lì Elimina Se vado lì Elimina Quindi vai Tranquillo Ci siamo riusciti Stage portata a casa Anche questo Bene così Completato E ci portiamo Due cassette a casa Andiamo a vedere Di riuscire a combinare A portarci qualcosa A casa Non è per niente Facile Io qua C'ho Sto swap Li uso subito Fiamo subito fuori Tutta la linea Se possibile Gli arcieri Fanno fuori Un'altra linea Ok E mo' il problema È sempre quello Io c'erano due Non basterebbero Così ne elimino Uno addirittura Soltanto E quelli sarebbero Veramente utili Sto utilizzando Troppe unità Già Già lo vedo Dolore Allora Questo lo eliminerebbe Subito Se faccio per due Sì E così invece Smezziamo Vediamo un po' Che succede Mi sto tenendo La fireball Questa volta E mi sto tenendo Pure loro Che sono grossi Non viene eliminata Quei maghi Quei barbari Sì Però dopo Mi convengono i maghi Sinceramente Tanto tanto Guarda che sfortuna Do sta ficcato lui Allora Palla di fuoco Di quelle pese Ok Così Le eliminerei Due cannoni Così Le eliminerei Tre No tre Tre in tutti i sensi Mi conviene Le eva Quelli frontali Perfetto Meno unità ci sono Sul terreno E più abbiamo probabilità Di portarsela a casa Che sfortuna Che sfortuna Non distrugge Ma rischio così Dai Ma dopo Quanta roba Mi more Allora vado D'arcieri Ok I grossi Non dovrebbero morire E mi è morto Un arciere Però di nuovo Questo va colpì A destra Così è sfortuna Però Se li metto In fila Questi Potrebbero Fare Uccisione Dai che riusciamo A fare un po' De pulizie Alla sopra No Col cavolo Allora Non verrebbero Eliminati Questi Quindi Sinceramente Io Aprirei Muro E proverei Andare di cattiveria E un po' Così me ne levo Tre Però mi hanno invita Troppa roba Un'altra volta Oh Vai L'unica possibilità Che abbiamo È rimasta Quella torretta Alla No Tutti e due Sono rimasti Che non è torretta Allora Questo Porterebbe Eh dai E' fatta E' fatta Ce l'abbiamo fatta Wow A posto Abbiamo preso tre due le casse Benissimo così Ok Vediamo se riusciamo a farla da tre Quindi Qui non ci conviene Utilizzare Abbiamo capito Situazioni Allora Facendo maghi Non elimino niente Facendo barbari Elimino quattro Quindi conviene Barbari E rimane soltanto Quella balestra Lì a dritto Ecco Sarebbe però Un po' Uno spreco La balestra Dritto lì Però Che me posso inventare Niente D'eccezionale Almeno che Non faccio Uno swap Via un po' Facendo più danni Di qua No Niente Una cavolata Grossa Devo andare A botte singole Perché sono Spreco unità Tanto il cavaliere Non mi ci muore Però effettivamente Stiamo spiegando Unità alla grande Il gigante Me ne fosse arrivato Uno Nel momento giusto Che mi serve Addio al cavaliere No Ok ancora io Allora quelli potrebbero Essere eliminati Ma Ci vogliono troppi danni Quindi sto andando Veramente a un'unità Alla volta Regà Bruttissimo Ho sbagliato Porca miseria Vabbè Diciamo che nel male Ho fatto bene Uguale Ok Qua Palla di fuoco Che gli elevo Tutti Sti gold Maledetti Intorno In più Faccio danni Ok Sta linea Se facessi Lo swappino Qui Vediamo un po' Mi è rimasto Quel maledetto Arcere Laggiù Che non con tantissimi danni Potrebbe essere eliminato Però non mi bastano I danni Vabbè Visto mi aveva uccidere L'arcere Magari mi uccidi il mago Non me l'ha uccido Il mago Benissimo Eh ho capito Quelli vanno sprecati Veramente tanto Così Vediamo un po' Di tre arceri Forse Forse i tre arceri E i tre maghi Me li uso dopo Cioè anzi Sono cinque maghi In verità Che non sono male per niente Cinque maghi In questa situazione Wow Ci è andata molto bene Questa Eh abbiamo qualche problema Logistico qui Però Forse Ce la facciamo Non è morto Io mi Tiro a dritto Così E forse Non ce la facciamo Per un pelo Porca miseria Guardate che sfortuna E niente Sempre due su tre stage Siamo arrivati Al quarto livello Della cannonball reef Quindi abbiamo fatto Un bel progresso Arriviamo A mille like Condividete il video Iscrivetevi al canale Se novi Lasciate il hashtag Clashquest Per ricevere un cuoricino E ci vediamo Nel prossimo video E ci vediamo E ci vediamo